Celebrare l'arrivo dei nuovi nati nel comune e rendere più verde il territorio urbano. E' questo il progetto Un albero per ogni nuovo nato, che vede in prima linea Comune di Barga e Consorzia di Bonifica. Progetto che il 3 dicembre è arrivato a compimento. Lungo Via della Repubblica a Fornaci sono stati messi a dimora 21 nuovi alberi. Vanno a ripopolare le aiole di Via della Repubblica, nel tratto che dalle due strade arriva fino al bivio di Viale Cesare e Battisti. Le piante rendono omaggio ai nuovi nati nel comune di Barga, che nel corso del 2021, almeno fino a questo inizio di dicembre, sono stati 48. Per questo motivo ogni quattro alberi sono state collocate delle paline che riportano ognuna 18 nomi dei nuovi nati. Gli alberi scelti a Fornaci sono Prunus Cerasifera Nigra, pianta molto decorativa per la colorazione del fogliame e l'abbondante fioritura. Sono gli stessi alberi già presenti lungo la via. Viene utilizzata come pianta ornamentale in parchi e giardini e anche per alberature stradali, anche in spazi ristretti. La fioritura è di colore rosa-rosso, particolarmente bella da vedere nei mesi di aprile e maggio. L'inaugurazione ufficiale dei nuovi alberi è in programma sabato 11 dicembre alle 15, alla presenza delle famiglie e dei nuovi nati. Il comune fa sapere che un'analoga operazione, insieme al Consorzio di Bonifica, sarà realizzata anche per il 2022, andando ad interessare altre zone del territorio comunale. Grazie.